Ciao ragazzuoli, oggi volevo dirvi che questa settimana non uscirà nessuna puntata della serie Nella Terra di Steve per due motivi. Il primo è che uscirà una puntata, un video, del videogioco Front Knight che essendo più nuovo e andando bene in questo momento preferisco pubblicarlo adesso piuttosto che più avanti perché poi uscirà il nuovo Call of Duty e passerà di moda. Il secondo motivo è che sono in fase d'esame e perciò non ho tempo di editare più di un video a settimana perciò mi scuso per questo piccolo disguido, il video di Minecraft, della serie principale di Minecraft uscirà settimana prossima e poi dalla settimana dopo, probabilmente, non è certo, usciranno due video a settimana perché arriverà anche la puntata della serie Professione Allenatore. Ma adesso vi lascio il video. Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro, il Tank e questo nuovissimo video che faccio questa volta a casa di Alan Ciao In questo gioco che si chiama Fortnite Fortnite! Battle Royale! Piselli lunghi No Io farei partire la partita se fossi in te Va bene, allora oggi giocheremo su Xbox purtroppo Alla vaffan***o Cioè, mulo In questo gioco in cui io ho giocato due o tre partite e sono morto velocemente E funziona così, è un misto tra Minecraft e Call of Duty Se non l'avete visto, è un misto tra Minecraft e Call of Duty Perché tu hai la tua accetta e puoi prendere praticamente tutto, puoi distruggere tutto Trovo in giro le armi, devi uccidere la gente e devi finire per l'intimo Sì, da essere il primo Perché sono una donna? Eh, si sa Quindi posso calpeggiarmi le tette d'ora se non lo dici Vai! C'è uno che vola! Ok Si parte con questo bellissimo autobus volante Il video sarà arricchito da carne secca americana Product placement Product placement E da energy drink Product placement Io lo salto Vabbè salto Ecco, bisogna lanciarsi Faccio Babbo Natale Esatto Ecco, spacca dal tetto e ti entra dal tetto Cioè, non si sente neanche se c'è un tesoro Perché quando sentite il ziki-ti-ti-ti Ecco, spacca questa Guarda a sinistra Cioè, spacca questo, bravissimo Perché questo è a destra Eh, eh Niente Guarda a sinistra Il sottotetto Guarda dietro di te Qua mi nasconde Non c'è un tesoro Ecco il tesoro, buon Sono un genio Ecco il tesoro Di solito li trovate qua, i tesori Che bello Non hai neanche trovato un'arma Sì, sì Una mitraietta Io direi di spaccare il tetto No, ma non quella mitra Va che ne pochissime Devi tenere schiacciato gli Y Ha sbagliato, Alan Non è Lui è cattivo Io sì, sono cattivo Ecco Guarda, guarda Che c'è l'innemico Non si sente Non si può giocare senza volume Oh no, sono morto Sguantrina Che c'è a biva C'è un tassetto È già morto Visto, perché senza volume È impossibile Io apro già queste Fa schifo Questo non verrà tagliato nel video Mmm Modora di c***o Insomma, ragazzi Questo è ciò che c'è È carne secca È carne secca È stra buona Mmm 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 Buttati dalla Ruppe Non si può Ammazza Rupert Da Ruben Muori Ruben 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 Siamo di nuovo qui Non è vero Siamo andati Tocca a me questa volta Subito Spero che metta a fuoco Se non mette a fuoco C***o me ne frega C***o C***o Allora, comincia la partita in diretta Attenzione, Alan che scende Punta al granaio No, vuole andare sulla pianta Attenzione, che grande Atterraggio del giocatore Trova un'arma Fortunato Cosa ha trovato? Una mitraglietta Distrugge tutto Impazzito Ha una crisi di nervi Salta Bug la mappa Viene definito un maiale Da quelli che hanno creato il gioco Attenzione, distrugge tutto Vuole del ferro Va avanti Va avanti Distruggendo la casa Ha detto Questa è Sparta Ho sentito bene Cerca di entrare nella porta Apre la porta con arroganza Ammunizione al massimo Guarda cosa c'è nel frigo Crede che ci sia Mangia, mangia Oh, Petru Non infirarmi la vita in bocca Stai distruggendo il frigo Perché ci stava cercando Il tonno con le cipolle C***o Era una volta Una palma Ha già chiesto le autorizzazioni Al comune per fare una casa Esattamente Hai visto? Oh, ma che figo Ma che figo Hai costruito Esattamente Ve l'ho detto ragazzi Che è un misto tra Minecraft E Call of Duty Perché devi uccidere Ma devi costruire Non si mangia con la bocca piena Mi scappa la cacca Signori Questo gioco È uno spettacolo Perché Questa vicesse Non spara tutto È uno sparatutto Spettacolare È divertente Il fatto è Il nostro obiettivo Prima della fine Di questa puntata È arrivare Tra i primi 30 Io arrivo anche prima Certo Come no Tra i primi 30 Io fingo Che Alan sia simpatico In realtà Mi sta sul c***o Distruggi la macchinetta Ma che macchinetta Che noioso Non fa niente di divertente Eh ma voglio trovare gente Che mi ammazzeranno subito Titolo clickbait Alan Fa schifo Ah sì raga Dovete sempre stare nel cerchio Della vergogna Non c'è una città Qualcosa Dove posso trovare gente È un fabbro per caso No Magari nella tua casa Trovo qualcosa nella cesta È un riferimento a Minecraft Che tu non puoi capire Perché sei un ignorante Io non gioco a Minecraft Di sicuro c'è qualcuno Perché hanno aperto C'era la porta aperta Orca puttazza Vaffan Beh si ha letto trentesimo Trentesimo Era trentesimo Sì Siamo dei porchi Ma perché è diventato così? Perché è buio È notte È verribile Tu sei verribile Lo so Vado sull'isola Vai sull'isola Anzi al posto Qua dentro Qua dentro Stai qua dentro Perché è la... No C'è qua il quadro Che non cosa Porco giù da st... Vabbè fai un'altra Cazzo fa Stiamo andando alla caccia del leon Stiamo andando alla caccia del leon Scendo là al granaio Vai scendo al granaio Al granai Le scende Ragazzu... Ah raga Cosa è importante Appunto Questo gioco qui È gratuito Quindi ci può giocare chiunque Per ora è gratuito Perché... No no Per sempre È tipo una demo questa Forever in demo Appunto per ora è gratuito Ebbè la demo è gratuita È gioco completo Che poi costa Quindi vi consiglio di scaricarlo Sia su Xbox Che su Play Dov'è l'arma? Eh boh Su un tetto Ah Nasconditi Non ti vede Non mi vede Oh mio Dio Sto sparando a qualcun altro Però di conseguenza Uno dei due morirà Quindi prendi l'arma Oh Wow What an Culo Metti Morca miseria Era quello di prima Perché sei Perché è tornato qua Decelebrato Celebroso Maledetto Malvagio Ragazzi è troppo scarso lui Pronto? Dottore Penso di avere le coliche E i piedi Stai rubando lo scuolabus No Hai visto? Perché non sono lì Ah lo sto guidando io raga Lo sto soffermi il naso con la tua maglietta Sì sì Quella della Jordan No stai fermo Quella della Jordan Oh oh Viva viva l'olio d'oliva Oh Veloce 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 Ti prego Eccolo Eccolo Come fa ad avere già Per fuggire Scusami eh Uccidilo 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 È morto Non ancora Uccidilo Subito Sì No Puzzetto No stavo per morire Fanno un'altra Eeeh Di spettacolo Stai andando verso questo Sì come sempre Perché mo voglio vincere Attenzione Alan Si avvicina verso il granale Scende in modo L'hai visto? No Allarma 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 Lama Lama Oh cazzo Scappa 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 Buttati Corri Scappa 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 No 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 Dall'altra parte cosa c'è Eccola E' troppo lento a prendere le cose Mi fa arrabbiare Shhh Seee Madaffacca Seee Seee Andiamo a cercare gli altri Io non mi fingerei morto Se fossi un te Però non va bene Che dicevo qualcosa di stupido E poi ridiamo Giusto E' come dire Tirassi uno schiaffo Uno schiaffo sul sedere E poi che Arrabbiare sui schiaffi sul sedere Ragazzi Prima stavano guardando Un programma su D-Max Affari in varigio Eh ma non si dice C'è copyright Affari in Trolley Ah Ye ye Madaffacca Ye ye No Ma perché No Io non ho parole Però no Non è giusto Lo stavo sparando io Per primo Lo stavo sparando io Vabbè ragazzi Io direi che Il nostro video Si può anche concludere qua Perché noi ci abbiamo messo di impegno Abbiamo fatto un po' di partite Ragazzi Sono troppo scarsi Si avete visto quanto è bello sto gioco Comunque finisci di dire Quello che stavi dicendo Ah già Per chiudere il video C'era uno dei protagonisti Che ha trovato Un attrezzo per le sculacciate Cioè proprio Adesso ti chinavi su questo oggetto E ti facevi sculacciare Però Non era Cioè Era ben esordienti Per principianti E per te È Mickey Mouse È Giovanni Mucciaccia Vabbè ragazzi Io vi dico che il video si conclude qua Vi abbiamo fatto un po' vedere Come funziona questo gioco Di merda Brutta Brutta ora Vi ringrazio tanto per la visione Vi invito a cliccare mi piace sulla sua faccia Non si può mettere il mi piace sulla sua faccia E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Sulla sua faccia Vi auguro una buona continuazione E ciao ciao belli Ciao 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 Ciao